Se io cerco di mettere qualcos'altro, ho degli urli in casa, ho Diana in Roma, 24 ore al giorno. Voglio raccontarvi un aneddoto, accaduto ieri sera. Allora, ieri sera ero a Budapest, no? E facciamo il primo tempo, cioè il primo tempo... Questa è carina, questa è una bella chicca, secondo me, da condividere. Succede che il primo tempo, facciamo bene, Raspadori fa gol, ok? Io già che lui mi manda un messaggio sul fatto che guardava la partita, rimango basito. Però l'Italia la guarda più di qualsiasi altra cosa lui, perché la ama veramente più di qualsiasi altra cosa l'Italia, no? E mi dice, una punta l'abbiamo trovata. Quindi dico, Raspadori, Raspadori, visto che... Sì che io dico, lo faccio vedere ad Alessandro Antinelli, no? Cioè Alessandro Antinelli era già pagato, ha già pensato, questa è l'opinione del secolo. E io ero lì con lui da due giorni, mica gli fregava quello che dicevo io. Guarda che Bobo dice che con Raspadori una punta l'abbiamo trovata, adesso speriamo di far crescere un'altra. Capito quanto è influente lui? È che non è stato nemmeno un centramanti di livello, non capisco il perché. Comunque non ha ancora letto la puntata del cuore della Bobo TV, tutte. Comunque c'ho Frozen, Oceania... Ah, partiamo di cazzo, quello c'è nel cuore insomma. Ah, che lo vedi? Oceania, Oceania, 4.000 volte l'ho vista.